Salve a tutti, buongiorno, siamo a Mociano Sant'Angelo, via della stazione 15 da 64.023. Io sono la titolare, Monica Lallone, 34 anni, sono originaria di Mociano e vivo tutt'ora in questo paese. Da 8 anni, come ho detto poco fa, sono titolare di questa attività, di questa piccola realtà. Tutto quello che noi facciamo è questo, offriamo il servizio colazione, aperitivo e abbiamo un reparto enoteca e prodotti qui del nostro territorio. Quello che noi abbiamo cercato di fare sin dall'inizio è stato questo, valorizzare tutto quello che il nostro Abruzzo oggi ci offre. Dai prodotti tipici, cioccolato, tartufi, marmellate, liquori, vini, pasta, miele, tutti i prodotti a chilometro zero del nostro territorio. Insieme alla mia famiglia, agosto 2020, abbiamo aperto qui a pochi metri dal nostro punto vendita un'altra realtà, chiamata AgriLab Lallone. L'azienda è di mia madre, Quaranta Silvia, un'azienda che da oltre 20 anni lei gestisce. In questa azienda produciamo arrosticini, tutti puramente fatti con carne abruzzese, di pecore abruzzesi. Facciamo salsicce provenienti dai nostri suini macellati, i suini provenienti dai nostri aziendi. Produciamo anche pasta prodotta con farina sempre raccolta presso la nostra azienda, marmellate, farine e tutti i prodotti che, diciamo tra virgolette, appartengono alla filiera agricola. Offriamo il servizio di consegna a domicilio su tutto il territorio, mociano e zone limitrofe. E bene, che dirvi? Mi faccio tanti cari auguri di buona Pasqua a voi tutti e per qualsiasi cosa potete contattarci, siamo disponibili. Buona giornata! Grazie a tutti! Grazie a tutti!